Fare imprese è difficile, soprattutto per chi, provenendo dal mondo accademico, non possiede ancora le competenze necessarie per confrontarsi con il mercato e contesti istituzionali. Unibon Launchpad nasce dalla collaborazione tra Università di Bologna, Istituto Italiano Imprenditorialità e Fondazioni e Imprese del Territorio. Fornisce a team motivati di giovani ricercatori, assegnisti e dottorandi gli strumenti cognitivi, tecnici ed emotivi per intraprendere con successo un percorso imprenditoriale a partire da un'idea innovativa. Per dieci settimane, nelle aule e nei laboratori messi a disposizione dall'Università di Bologna, i team selezionati riceveranno una formazione specifica e saranno affiancati da mentori altamente qualificati che li aiuteranno nella messa a punto dell'idea, nell'articolazione del business model e nel rapporto con il mercato e gli stakeholders finanziari e industriali. I team giudicati più meritevoli e motivati vivranno un'esperienza full immersion in Silicon Valley, dove entreranno in contatto con la cultura imprenditoriale più dinamica e recettiva al mondo. e al loro ritorno in Emilia-Romagna daranno finalmente vita alla start-up dei loro sogni, contribuendo alla crescita dell'ecosistema imprenditoriale del territorio.